Buongiorno ad Enrico Mazzucchelli, parliamo ora di adaptive facades. Le adaptive facades sono delle facciate che sono tipiche di edifici di nuova costruzione e abbastanza complessi dal punto di vista dell'involucro esterno. L'idea di un'architettura adattiva è emersa negli ultimi anni nel dibattito internazionale ed è relativa allo studio e alla definizione di soluzioni di involucro in grado di adattarsi dinamicamente e attivamente al variare delle condizioni esterne climatiche sia su scala di tipo stagionale sia su scala di tipo giornaliero. In questo contesto l'edificio viene considerato come un organismo vero e proprio che si autoadatta alle variazioni climatiche esterne. Questa adattabilità naturalmente costituisce un nuovo approccio allo studio e allo soluzione dell'architettura. Cambiano non solo gli aspetti tecnologici come le caratteristiche di prestazione quindi all'interno delle soluzioni di involucro durante la giornata oppure durante la stagione, ma anche il modo stesso in cui considerare l'architettura in termini estetici e culturali. Per esempio un edificio in un contesto climatico tropicale si adatterà visivamente in modo differente da un edificio costituito in zone temperate. L'architettura adattiva prende spunto anche dalle soluzioni biomimetiche che traggono la loro origine dallo studio delle variazioni di organismi viventi nella natura. Quindi si studia come un organismo vivente è in grado di adattarsi alle variazioni climatiche e si cerca anche di riproporre all'interno delle soluzioni di involucro dell'edificio una soluzione in grado di rispondere a queste variazioni climatiche. Quindi attualmente possiamo dire che questo adattamento è presente negli aspetti legati a vegetali e animali non ancora completamente all'interno dei nostri edifici. Quindi l'obiettivo è quello di creare delle soluzioni di involucro in grado di adattarsi a questi cambiamenti e a sfruttare in modo positivo questi cambiamenti. Un altro aspetto che dobbiamo considerare è l'aspetto adaptive o adapted perché esiste un adattamento come risultato, quindi un adattamento di tipo statico e un adattamento come processo, quindi un adattamento di tipo dinamico. Tipico esempio di adattamento come risultato, quindi un adattamento di tipo statico, è quello che viene sfruttato per quanto riguarda l'illuminazione degli ambienti interni in un'architettura legati alle differenti altezze solari durante l'arco della stagione. Durante l'inverno il sole è più basso sull'orizzonte, quindi una determinata geometria è in grado di sfruttare l'ingresso della radiazione solare in ambiente per dare una buona illuminazione naturale e per apportare dei buoni apporti energetici gratuiti, ma allo stesso tempo la stessa geometria è in grado d'estate quando il sole è alto sull'orizzonte, di intercettare e limitare quelli che sono i rientri di calore che potrebbero portare al surriscaldamento degli ambienti stessi. Differente è l'adattamento come processo, dove parliamo di adattamento di tipo dinamico. In questo caso abbiamo la presenza di anche sensori ed attuatori in facciata che possono movimentare degli elementi che vengono installati al fine di modificare le condizioni di permeabilità alla luce o di permeabilità alla radiazione luminosa dell'involucro stesso. È il caso che vediamo verificato in questa slide dove parliamo dell'Istituto di Parigi di Jean Nouvel. La trasformazione dell'involucro da chiusura solida a chiusura trasparente che abbiamo anticipato in precedenza è anche legata al fatto che le moderne chiusure di tipo trasparente sono spesso legate ad una maggiore adattività. Infatti il componente di facciata non ha solamente una funzione di separazione tra interno ed esterno, ma ha anche una funzione di controllo e regolazione di aspetti legati all'energia, all'igiene, alla permeabilità visiva, alla ventilazione. Tutto questo può essere nella maggior parte dei casi contenuto e realizzato all'interno di una singola cella di facciata che diventa in questo modo un elemento in grado di modulare e di regolare le forzanti climatiche esterne rispetto all'ambiente interno. D'altro canto non dobbiamo tralasciare il fatto che nei moderni edifici abbiamo degli aspetti contrastanti perché l'indirizzo verso la realizzazione di chiusura di tipo vetrato da un lato favorisce l'illuminazione degli ambienti interni, ma dall'altro può creare delle problematiche per quanto riguarda il rispetto dei requisiti del punto di vista energetico e allo stesso tempo necessita in modo inequivocabile di avere un controllo degli eventuali effetti di abbagliamento degli utenti che si trovano all'interno dell'edificio. Quindi la trasparenza deve essere mediata e controllata tramite degli appositi dispositivi in grado di modulare l'ingresso di energia all'interno dell'edificio stesso. Quali sono i fattori esterni che siamo in grado di controllare tramite queste facciate di tipo adattivo? Naturalmente la radiazione solare, la temperatura esterna, il vento, gli effetti dell'umidità, delle precipitazioni atmosferiche, del rumore. La cosa importante da valutare è che naturalmente la radiazione solare ha degli effetti sia dal punto di vista del comfort benessere luminoso, sia dal punto di vista dell'energia e quindi i fattori esterni hanno molteplici effetti all'interno degli edifici, non solamente degli effetti univoci. Quindi un determinato fattore deve essere controllato sotto molti punti di vista, non solamente sotto un aspetto di tipo puntuale. Ad esempio, come vi dicevo, la radiazione solare deve essere vista non solamente dal punto di vista energetico, ma anche dal punto di vista del comfort luminoso. Così come dal punto di vista della ventilazione occorre considerare come l'apertura di un elemento che consente la ventilazione tra esterno ed interno di una facciata può consentire sì la ventilazione, ma allo stesso tempo può consentire al rumore dell'ambiente esterno di entrare nell'ambiente interno creando dei discomfort dal punto di vista acustico. Quindi una soluzione efficace di ventilazione deve essere pensata anche per garantire un buon comfort acustico all'interno degli ambienti che andiamo a ventilare. Da questo punto di vista quindi l'involucro dell'edificio può avere diversi effetti sull'interno dell'edificio stesso, sugli ambienti indoor. Quindi abbiamo degli aspetti legati agli aspetti di tipo energetico, degli aspetti legati dal punto di vista della permeabilità e della visibilità dell'esterno, degli effetti legati all'integrazione di sistemi per lo sfruttamento di fonti rinnovabili all'interno di questi involucri adattivi che sono quindi in grado anche di recuperare e di utilizzare dell'energia di tipo gratuito in modo tale da renderla disponibile all'edificio stesso e abbiamo non da ultimo degli aspetti di tipo estetici. Esistono degli involucri come vediamo in questa immagine che vi consentono tramite le integrazioni di sorgenti luminose di mandare dei messaggi verso l'esterno e quindi di creare e di modificare la facciata verso l'esterno in base alle varie ore del giorno e alle varie condizioni che volete vedere. Quali sono i metodi per controllare e regolare e per mediare gli effetti dell'ambiente esterno sull'ambiente interno? Naturalmente abbiamo più possibilità di modulare. Un primo aspetto è che queste tipologie di facciate, le facciate cosiddette adattive, possono interagire con l'ambiente esterno cambiando la forma o cambiando la geometria. Quindi è un qualcosa che è visibile dall'esterno perché alcuni componenti, ad esempio delle schermature solari, possono cambiare di forma e di geometria andando a modificare la loro posizione nell'arco della giornata oppure nell'arco delle stagioni. Possono esserci degli effetti legati alla comunicazione, come vi anticipavo, legati ad esempio ad un cambio di colore. È un tipico esempio l'Alliance Arena che presenta delle differenti colorazioni a seconda dell'attività e dell'evento che si svolge all'interno dello stadio stesso. Si può cambiare, soprattutto per quanto riguarda le chiusure trasparenti, la trasparenza, quindi utilizzando dei vetri che possono cambiare la loro trasparenza durante l'arco della giornata oppure a seconda delle attività che si svolgono all'interno degli ambienti, quindi utilizzando dei vetri ad esempio elettrochromici. C'è anche la possibilità di cambiare la permeabilità all'aria della soluzione di facciata, quindi aprendo o chiudendo delle pannellature che consentono l'ingresso o la ventilazione delle intercapedini, per esempio, nelle facciate a doppia pelle. Quindi abbiamo sempre degli input e degli output, quindi c'è la possibilità di avere delle facciate che si regolano dinamicamente tramite la presenza di sensori che ricevono dei segnali dall'ambiente esterno e vanno ad attuare, quindi a modificare delle condizioni o delle posizioni di elementi che costituiscono la facciata stessa in modo da rispondere a quelle che sono le variate condizioni climatiche esterne. In questo ultimo grafico vi viene evidenziato quelli che sono i principali obiettivi che queste facciate si pongono, quindi la realizzazione delle condizioni di comfort termico, di qualità dell'aria all'interno degli ambienti, di permeabilità e quindi di possibilità di vedere l'esterno dell'ambiente che ci circonda, la qualità acustica, la generazione di energia e anche il controllo da parte dell'utente che da questo punto di vista è fondamentale. L'utente non deve sentirsi in balia della facciata, anche se questa può reagire autonomamente, ma deve allo stesso tempo essere in grado di interagire con la facciata stessa in modo tale da poter variare alcune condizioni localmente in base alle proprie esigenze. Naturalmente anche in questo caso le operazioni che dobbiamo considerare sono legate anche alla velocità di attuazione delle modifiche della facciata, quindi dobbiamo considerare delle variazioni quindi a livello di scala temporale in secondi, in minuti, in ore oppure anche addirittura in stagioni, quindi ogni soluzione dovrà essere tarata per garantire le condizioni di comfort interno. Da ultimo vi segnalo questa pagina web dove trovate delle informazioni legate a queste tipologie di facciate, del relativa a una cost action che si concluderà a novembre 2018 con la conferenza finale e che ha portato alla definizione di un database delle soluzioni tipologiche principali di queste facciate con uno sguardo a quelle che sono le possibili applicazioni future anche di queste facciate.